a bene in pari 2019 nei corridoi si incontrano anche degli amici italiani e il caso di cecilia da guanno responsabile marketing della digisoft spa buongiorno cecilia benvenuta a parigi buongiorno a voi buongiorno fabio e viva parigi viva parigi abbiamo assaggiato un buon espresso italiano qui in alcuni stand delle torrifazioni italiane qualche francese ci ha offerto lo champagne abbiamo dunque completato gli assaggi è il momento di parlare delle novità voi siete qui in visita suppongo noi siamo qui in visita siamo venuti perché volevamo vedere un pochino che cosa offriva il mercato francese eccetera e poi perché dove c'è il vending c'è digisoft quindi non potevamo non esserci ma mi dicevi a telecamera spenta che avete in servo una grandissima e rivoluzionaria novità per le aziende di vending assolutamente sì allora noi ci siamo salutati a venditalia l'anno scorso e ti ricordi che noi abbiamo cominciato a parlare di un vending 5.0 per una serie di motivi fra l'altro perché noi vogliamo portare qualche accenno di futuro soprattutto per il nostro settore cioè vogliamo cominciare a parlare di marketing digitale quindi vogliamo anche essere un riferimento del settore per qualcosa che fino adesso si conosce poco e si usa poco appunto la digitalizzazione degli strumenti di comunicazione cominciamo subito a dire cosa allora digisoft presenta sul mercato del vending italiano internazionale una suite di marketing che si chiama white rabbit il coniglio bianco perché vogliamo che comincia ad entrare il concetto di happy business white rabbit è una suite che si occupa di marketing digitale per l'appunto è una marketing hub cioè un sistema che consente di convogliare all'interno della stessa piattaforma tutti i tool di comunicazione digitale perché fare comunicazione digitale complicato ci sono c'è molta frammentazione avere un unico strumento nel quale si possano contattare tutti i propri clienti indipendentemente dal dal canale che si vuole utilizzare è un risparmio di risorse è un valore aggiunto veramente straordinario digisoft propone questo strumento white rabbit al proprio mercato il vendic è pronto per cominciare a fare comunicazione digitale e noi vogliamo offrirgli lo strumento corretto per farlo e ne sapremo di più prossimamente attraverso un servizio dedicato su vending news il bimestrale della distribuzione automatica intanto però per chiunque desideri entrare in contatto con voi per saperne di più in merito al white rabbit c'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno? allora tanto per cominciare vi invitiamo a visitare il nostro sito che è sempre www.digisoft.it in cui troverete una sezione specifica che vi racconterà che cosa fa digisoft nel mercato del mercato del mercato digitale la nostra pagina facebook sempre digisoft spa e poi naturalmente c'è il mio indirizzo di posta elettronica che è sempre aperto per tutti che è cecilia.daguanno chiocciola digisoft.it cecilia grazie grazie a voi noi continuiamo perché sicuramente incontreremo tanti altri amici nei corridoi di vendi in pari ci vediamo a venditalia ci vediamo a venditalia l'anno prossimo